perché non ci stava dentro ciao a tutti ho deciso di farvi auguri di buona pasqua prima perché la prossima settimana purtroppo non riuscirò a fare il video non riuscirò a creare niente perché sarò senza il mio giurlore faccio tutto in questo video vi racconterò la mia giornata di oggi spero che vi piace il nostro canale ho tirato via il cartoncino perché non ci stava dentro si, preferisco fare un regalino così con tutte le cosine cosa c'è? no, mia madre dice che non costa 8 euro quello giù questo è 6,90 euro secondo me è 7,90 euro vabbè quali i prezzi? ma allora tira via anche questo allora C'è un po' di acqua. metti così, che è un bel apporto aspetta, metti dentro questo lo mettiamo qui ci dai prenti ai le russi questi basta aspetta un attimo ci mettiamo anche questi ma questo cosa l'hai preso a fare? e devo chiudere un po' Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti.